apriamo un lancio dopo un secolo che non apriamo un lancio apriamolo apriamolo ce l'avevo già mi sento come quando i bambini che ponendo le figurine panini trovano la centesima coppia di un giocatore più o meno di serie c è veramente una cosa odiosa qui scommetto che c'è tutte le cose più rare da trovare scommetto che qui sa di tutto guarda se avessi scommesso che il sassuolo vinceva la champions avrei avuto più probabilità di guadagnarsi io non lo so che schifo perché io ci vedo guarda ho trovato elite e il rinforzo ma non me ne frega niente adesso io basta adesso io me ne vado e vado a spazzare i camini ho trovato il bulldog professionista ce l'avevo elite però va bene però va bene c'è una bestia mi farò due classi col bulldog va bene si ti amo anch'io con l'off duty lo so ogni partita un lancio di rifornimento cos'è vai avremo elite uoooooooh sapremo di sicuro si i guanti operativo sentine l'elite che sono uguali a quelli centurion per cui è inutile grazie che lo vediamo apriamolo c'è l'uncicletta la terza volta come dalla mk14 litte è la terza volta la terza la terza apriamo c'è solo una mini professionista ma che schifo apriamo ma dai ma che schifo la balestra recluta che non la vuole nessuno apriamo questo lancio l'SM1 elite che ce l'avevo già ma di armi elite solo quelli che avevo già mi puoi dare ma dai apriamo il lancio quando si deciderà con l'off duty a darmi qualcosa di decente l'abbiamo 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 l'abbiamo